A luglio l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi aumenta dello 0,5% su base mensile e dell'1,3% su base annua, lo rileva l'Istat. La risalita dell'inflazione si deve in primo luogo all'accelerazione dei beni energetici regolamentati e all'attenuarsi della flessione degli energetici non regolamentati. In rallentamento risultano i prezzi dei servizi vari, dei beni non durevoli, di quelli alimentari lavorati e non lavorati e dei beni durevoli. La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni, pur restando negativa, registra una risalita e quella dei servizi è in lieve accelerazione. Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta a più 3,1 punti percentuali. I prezzi dei prodotti alimentari, per la cura della casa e della persona, rallentano su base tendenziale, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Grazie. 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 Grazie.